È stata una tavola rotonda interessante perché abbiamo parlato di punti di vista molto diversi, ma anche convergenti su quelle che sono alcune priorità nel disegnare esperienze di successo. Anzitutto il ruolo delle persone che devono alla fine interagire e trasmettere l'esperienza. Il retail è persone, il retail è esperienza e quindi il ruolo delle persone è fondamentale. Un secondo tema è che l'esperienza non è solo un tema di ultimo miglio, deve esserci una visione, un purpose, una guida che viene dall'alto e che deve pervadere un po' tutta l'azienda se vogliamo veramente che poi l'esperienza del cliente sia consegnata da persone che loro stesse all'interno dell'azienda hanno vissuto un'esperienza. Un altro tema che abbiamo trattato è il tema della difficoltà di interagire con un cliente che è sempre più esperto. Quindi quello che dà valore aggiunto è proprio aumentare il prodotto o il servizio con questa esperienza che poi è personalizzazione e umanità. RitiLab ci dà la possibilità di esplorare questi temi con persone molto diverse, tutte di livello molto alto, quindi con esperienze molto significative anche a livello internazionale. Non sono solo eventi, conferenze, ma sono veramente analisi ed esplorazioni anche di futuri possibili, condivisioni di esperienze tra aziende molto diverse. Io credo che ognuno di noi torni a casa con cose che sono più di spunti, sono veramente esperienze cui riflettere.